Una gita in bicicletta. Oggi per Giacomo è un giorno speciale. Andrà a scuola in bicicletta perché c'è la gita su due ruote con i suoi compagni di classe. Prima di partire, siccome gli piace ascoltare la musica, mette le cuffie del telefonino alle orecchie e parte. Spensierato si avventura nel traffico della città ascoltando la sua canzone preferita. Arrivata a un incrocio il vigile lo richiama fischiando. Una macchina sta arrivando nella direzione opposta. Per fortuna non è successo niente. Quello che avete sentito era solo il rumore della lattina di Coca-Cola che Giacomo ha investito. Ehi ragazzino, devi stare più attento. Non hai sentito il mio fischio? Ma certo, avevi le cuffie. Mi scusi signore, non lo farò mai più. Ho capito che è veramente pericoloso. La nostra storia è finita bene. Oggi per fortuna Giacomo parteciperà alla gita in bicicletta con i suoi compagni e imparerà le regole della strada.